numero 5 set di 6 deumidificatori da interno a base di cristalli idrofili questi sacchetti di cui tre al profumo di lavanda e tre al profumo di talco e lino aiutano ad eliminare la condensa e l'umidità prevengono la formazione di tarme acari e batteri molto pratici e non ingombranti ideali in ogni ambiente umido come il bagno la cucina la cantina e tutti i luoghi che soffrono di umidità eccessiva i sacchetti sono dotati di gancio per essere facilmente appesi e posizionati l'umidità sarà raccolta nel sacchetto stesso acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 4 set di 4 sacchetti deumidificatori pratici e funzionali assorbono l'umidità superflua nell'aria e aiutano a mantenere l'ambiente in odore e sano i sacchetti con cristalli assorbi umidità possono essere appesi ovunque l'umidità superflua sarà raccolta nella parte sottostante i vestiti e gli oggetti rimarranno asciutti e non sprigioneranno più cattivi odori questo antimiuffa è un valido accessorio per spazi come bagno armadi cucina camper barca con problemi di condensa e umidità trovi il link di questo articolo in descrizione numero 3 mini deumidificatore dal design compatto i cristalli contenuti all'interno assorbono efficacemente l'umidità dall'aria ideale per piccoli spazi il prodotto è riutilizzabile il deumidificatore è dotato di display visivo le perline arancioni diventano verdi dopo aver assorbito l'umidità attraverso la ricarica i cristalli si asciugano e sono pronti per il prossimo utilizzo semplice da usare trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 2 questa confezione contiene 6 deumidificatori da interno con due profumazioni diverse ideale in ogni ambiente umido come il bagno la cucina la cantina e tutti i luoghi che soffrono di umidità eccessiva assorbono fino a tre volte il proprio volume grazie all'azione naturale dei cristalli idrofili contenuti al loro interno inoltre rilasciano una gradevole profumazione di lavanda o di talco e lino il loro utilizzo è semplicissimo è sufficiente rimuovere la protezione di alluminio sotto la griglia in plastica e posizionarli nell'ambiente preferito se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 questo deumidificatore da interno riduce la condensa assorbe l'umidità è attivo contro la muffa i cattivi odori e gli allergeni presenti nell'aria assorbe fino a tre volte in più il suo volume grazie ai cristalli idrofili contenuti al suo interno questa confezione contiene 10 deumidificatori di cui 5 al profumo di lavanda e 5 al profumo di talco e lino durante l'uso rilascia una leggera e gradevole profumazione eliminando i cattivi odori grazie alle dimensioni ridotte è ideale in ogni ambiente in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon